Smergo giù di Trauer, 650 d'attacco speciale, e la cazzo è vinta, verdeee! Eeeh... Diogong su... Cangas, cazzo... Ti dico. Questa è una speed che può vedere che Pokémon ci sono, è perché 26. Però si potrebbe trastare anche questo. Buoni attacchi. Poca special defense, ma... Però almeno questi Pokémon 26 è tanto di speed. Qua c'era... Slugma e... Ah, Umbron, è vero, cazzo. Qua c'era Umbron, che lo volevamo prendere... Volevamo vedere quale di due era l'otto qua. È vero, è vero, è vero, è vero. Ok, ora ricordo, capo. Eeeh... Aveva un tail, quell'Umbron. Ti prego, capo. Ti prego, capo! 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 Dai, solido, capo! Ma vai affan... Oh, bite stab, porca troia. Zio per antiso, questo lo devo trastare, capo. Voglio vedere la Matrix della PIL che mi ha messo qua. Eeeh, ti pare! Parabia a Meghorn, capo. Ero più veloce, io? Dai, capo, crederci. Splash. Dai, la Matrix della PIL non mi deve sabotare anche oggi, però, eh. È sabato! È sabato, poi lì in vacanza, dai! Crederci, è sabato e poi lì in vacanza. Crederci, capo. Eh, il Godman, il cazzo, abbiamo una mossa. Sì, per antiso. Facce di bronze, dire. Cos'è che hai provato, Swagger? Tua madre, Swagger, capo. Vai, capo! Crederci, Umbron! Crederci, Umbron, nati! Vai, Umbron, crederci, capo! Dai, Thunderbolt... Dai, dai, dai! Thunderboltami, capo! Thunderboltami, capo! Flamethrowerami, Icebeamami! Che cazzo ne so? Extrasensorami! Qualcosa, 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 crederci! Pazzesco! Umbron Spicey del Thunder, qua! No, brother, però, ma rimma la robbery. Flincia, flin... No, no, flincia... No, 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 bro! Broder! Eh, dai! Facciami bravi, cazzo, eh! Dai, 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 dai! Madonna, santi, devo far bite, comunque... Proporre il bite, comunque, capo. Ok, sì. Dai! Moonlight... Moonlight... Dai, capo! Dai, dai, dammela la mossa! Tiff! La robbery! La robbery, tiff! Avevi snore, sì, però mi svegliavo. Snore, tanto non faccio una sega. Potevo fare snore, anche, però, sì. Tolgo snore, capo. O tolgo qualcos'altro. Merda, la robbery, tiffa... Tiff è la robbery, capo. Tiff è la robbery. È la robbery, tiff. Merda, che schifo. Ma vecchio, ma stai scherzando? Questa è giga... Dai, ma tiffa è veramente vergognoso. Cioè, questa è proprio la Matrix della pilca colpito, eh. Cioè, poteva essere un Ice Beam, la Matrix della pila ha sostituito, tiffo. Secondo me... Rega, tolgo snore, perché... Cioè, non lo so. Cioè, tanto ha 9 d'attacco, almeno Slam può fare qualcosa. È meglio fare quale, tecnicamente, questo. Tutti i McPunch ci hanno, eh. Guarda. Che maiali. Eh, ragazzi, la robbery è qua. Non ci danno gli items, la Matrix della pil. Questa è la Karate Shop, capo. No, brother, però... Vai, capo! Vai, talo, Sire! Il cuore ce lo stiamo mettendo, ragazzi. Però, purtroppo, certe volte non basta. Vi dico la verità, certe volte non basta il cuore. Maremma. Maremma, sto Kangaskhan, capo. Sto Kangaskhan è un qualcosa di terribilmente annoying, ti dico. Ok. Il cuore l'abbiamo messo, ragazzi. Il cuore l'abbiamo messo. E il rivale è fatto. E sono 10 punti, intanto. Intanto abbiamo dimostrato qualità, con 10 punti del rivale. Allora. Vai! Ok. Prima giù. Vai, con sto flinch, capo. Buono. Buono qualche flinch, eh. Buono qualche flinch. Tyrog. Devo proporre bite, ragazzi. Lizzblade. Giù uno. Giù due, capo. Giù tre, capo. Giù quattro, capo. Ma era quanto mi leva? 15, cazzo. Out of Brock! Nel Thunder! Pazzesco! Baita lo Sire! Baita lo Sire! Baita lo Sire! Se l'ha inventato questo Out of Brock. Se l'ha inventato, capo. Se l'ha inventato questo Out of Brock. Se l'ha inventato questo Out of Brock, il Pokémon. Accademico Out of Brock, socio. Accademico Out of Brock. Eh, il cazzo. Culo la minchia, bro. Qua l'abbiamo giocata di astuzia. Che diverso. Accademico Out of Brock. Magnetudo, capo. Com'è? Cioè, fa cagare perché non ho attacco. Siamo able. Possiamo insegnarla. Abbiamo preso varie decisioni. Tipo mordere l'opponente. Anche secondo me è mezzo inutile sta roba di correre fuori. È una trovata di allungamento del brodo con una cosa che non funzia, però. Boh! Ho visto gli altri farla. O gli diamo la berri qua dentro. Ma a parte gli scherzi. Baita lo Sire! Ma qui, talo capo! Veramente sta fungendo di controllo questa roba del petto. Veramente. Ma mi girano messaggi che anche nei gruppi spammano. Perfetto. Ma ci sono veramente... Che cazzo. Sì, operanti scapo. Baita lo Sire. Porco Dio scapo. Io lo baiterei questo, perché è un Dragonite. Ed è pronto a far la robbery, eh. È pronto a far la robbery il Dragonite lì. Ma quando è che fai un format chiamato Poli... No, Iron Mon Gym? Non lo so. Però cazzo, puoi mettere. Secondo me potrebbe essere... Cioè, Poli dovrebbe fare un qualcosa sulla pale. Sai quanto ci si diverte? Prenderei un treno ogni weekend. Poli Iron Mon Gym. Tu scherzi, ma secondo me potrebbe essere la Poli Gym League. Facciamo tipo gli streamer americani. Ma comunque stamattina stavo guardando Kaisen. Ti giuro che mi uccide, vecchio. Dai, Spider Web è la robbery, eh. Se non fosse arrivato Poli in chat, questo qua era una... Era una top move, invece hanno una bidonata, ora. Allora, su, cazzo. No, brother! Maremma cinghiala, capo. Going crazy. Merda, potrei anche far Megaurn qua, però no, lo baito questo. Va di rischiare. Prima abbiamo fatto dei Megaurn 4x, ma comunque non togliamo una sega perché abbiamo zero attacco. Vediamo un attimo. Dobbiamo fare out of... Cioè, dobbiamo fare full clear e fare spawnare gli item. Restiamo in focus. Come siamo messi con 67. Dovremmo usare un Ether, eh, secondo me, qua. Su un selvatico, magari. Abbiamo un paio di Ether. Abbiamo un max Ether e un Ether. È da provare il full clear qua. Tre allenatori, capo. No, brother! Che palle, Cristo! Abbiamo tre byte. Manca uno, no? No, brother! Full clear con zero byte, zero blitz kick. Giocata di didatticità. Da Oxford questo full clear. Pazzesco! Full clear da Oxford, vecchio! Pauroso sto full clear. Zero byte, zero blitz kick left. No strumenti usati. Che sport segui la Formula 1 solo da treni a sta parte? Guarda la Formula 1. Secondo me è meglio byte. Cioè, non lo so. Tanto sono di contatto entrambi. Tè di Ursula. Byte. No, brother, però. No, brother. Merda, che palle. Secondo me faccio un heal powder, bro. Ne ho infiniti. Mi tolgo sia la para che la confusione. Non devi dare il rischio. Ne ho trovati vari, no, di heal powder. Ho tre heal powder e ho due lamberri. Cioè, secondo me qua lo uso. Mi tolgo tutto. Dio stronzo, brother. Veramente, non ne vorrei. Il metango. Vabbè, almeno ci siamo tolti la confusione. Penso fosse worth da usare lì, bro. Cioè, che sfighe. Secret power, paralisi again, vabbè. Va bene, dai. Misty fat. Siamo beccati da robbery, eh. Proprio non sapevamo di statico su quel po' che l'hanno potuto giocare attorno. Hyper voice. Purtroppo non buona su questo. È arrivare a quel cazzo di Kangaskhan che caga la palla in un modo da dire poco vergognoso. No, Magic Hot, che palle. C'è il sole. Forse me... No, mette la drizzola lui. Madonna, questo. Dai, good. Bite è forte, raga. Cioè, bite è veramente sgravo. Ma veramente... Dobbiamo mettere i punti del rivale, vero? Volevo usare un bladeskick e non un bite ma missa sempre bladeskick di merda Cristo, maiale. Allora, abbiamo pipi max, cazzo. I'm just saying... Mm-hmm. Sui, maremma, cinghiala, brother. Fuck me, ass, cazzo. Non lo uccide lì, dragon, secondo me. Dobbiamo usare un max header su bite qua. Mi sa, qua dentro. Non ho visto ieri quando polio mi ha sclicato il magnet come l'hanno detto dopo. Ma succede, raga. Cioè, succede che lagga un fuck il tracker quando sei avanti. Io una volta alla sylph mi ricordo che ho misclicato la mossa a fuoco che ho rischiato. Infatti. Solo che cioè, mi sclicato. Non è che poi più che mi sclicca è un lag che è... Cioè, vai sempre i due all'ora. Cosa che faccio ora quando sono un po' più avanti. Oppure... What happened? il barboitz. Mmmmm... 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 dovrò usare un max 3 provare dragon breath anche però cos'è che ha fatto? boh potrei provare dragon che scarogne era un roll drizzol secondo me è dragon tanto è blades kick o dragon c'è la drizzol maremma maiala te pare si o porco è a 90 cure se solo 5 pp nulla dragon breath rimangono tutti a uno Cristo è incredibile secondo me è il powder no vabbè vi è in zero attacco potremmo anche ok no no non usiamo lì il powder non usiamo lì il powder non usiamo lì il powder lì quanti pokemon ha sto trainer ragazzi pure che non mi ricordo quanti pokemon ha sto trainer ragazzi che non mi ricordo 2 proviamo il dragon breath su questo ok mancano 4 uso magnitudo no bro 20 d'attacco che uso magnitudo rega non uso magnitudo anche perché rischio il counter con magnitudo mentre the mirror coat sono immune con questo brother come statico quasi quasi usare il powder c'era un parale zilla c'è un altro il powder c'ho due lamberri as well c'ho troppi altri allenatori secondo me per non usarlo o due il powder alla figlia di budi con me si fa il powder con la provata di dragon breath cup sì secondo me è giusto almeno ora si abbia di pokemon che hanno statico no rega non grido dai ho due il powder c'evo due il powder e ancora due lamberri c'ho anche quindi c'ho comunque tre cure di status totale secondo me lì non ha senso più che altro qual è il discorso bro è che siamo immuni a mirror coat adesso lo sta dicendo e succederà quindi rischio il destiny bond se attacco per secondo cosa che da parlato succede che attacco per secondo quindi secondo me avendo due lamberri e due il powder lì cioè non ti fai problemi a usare non ti fai problemi a usarla lì perché sia in buio raga siamo immuni a mirror coat raga non mi sa che non ne manca uno nella nave vediamo se ne manca uno questo lo andiamo a fare no si ne manca uno ok ne manca uno nella nave quale quale fatto fatto monterone l'hai fatto forse questo ok full clear tecnico bro senza usare lettere dai zero pp left buono pale 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 è reverse con l'umbre o si reverse solo la lume da sargent secondo me si ne ho due di lume non devi giocare come una kaizo normale bro dove la lume la tieni solo per la lega cioè qua vuoi far punti se c'è qualcosa che ti priva di far punti lo cerchi di evitare secondo me la usi sempre ne ho due perché non dovrei scusami bro cioè non ho capito minchia più veloce di me capo what lo so che va rough skin minchia ma che cazzo di pale sto beccando bro sono sgravi sti po' cioè sta roba che ho beccato questa pilla sta andando ok provando a fare del nostro meglio capo inchiatostissimo dal pazzo l'avele dal pazzo l'avele nato si troppi hp ma avendo poco così poco attacchi in realtà è ok dai che abbia quegli hp penso io io eviterei il miss andando di byte quelli che ho sempre shottato con byte fare i byton di evitare il miss di di blades kick capo morso sto capo pale buono surge surge tolgo un attimo il bingo così vedete adesso startiamo il bingo ok messi punti di surge ero a sala con ero a salazzo con salo poco fa eh cap abbiamo detto di organizzare qualcosa stasettimana poi ho detto guarda cap ma ho detto che c'è dopo mercoledì in caso tutto bene tutto bene devo fare l'allenatrice qua sotto ricordatemelo ok 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 ma che cargo ma cargo è il nuts bro perché viene shottata e ci mette la send noi abbiamo send veil che è perfetto vai dobbiamo sperare di fare più punti possibili no brother che palle però ok 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 buono è la pecca di baita il contatto sì però vediamo la pece va questa fatta questa non è ancora dobbiamo fare lei è la flame body questo maranza dragon breath ok eh qui eh sì alla fine è un dare in avere abbiamo fatto tutto no gli altri gli allenatori contro gli ampere sicurezza blasi ken col sole alle blasi ken blasi ken 72 ok milotic con dynamic punch brother nice bello il flinch capo ipno maranza baitalo troppo 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 su sole potrei anche blasi kick carlo per sicurezza mettiamoli da parte sti punti capo dai puliti socio puliti buono andiamo a mettere sti erika più 10 70 empie a a a a Grazie per la visione!